Siamo sempre in diretta dal salone EOS di Verona edizione 2023, nelle nostre mani c'è un prodotto ottico elettronico di particolare qualità e importanza per il moderno cacciatore. Si tratta del monoculare Zeiss DTC338 Clip-on. Che cosa significa Clip-on? Clip-on significa che questo è uno strumento che consente di trasformare in notturno il proprio cannocchiale diurno. Tramite una serie di adattatori che si innestano sull'obiettivo dell'ottica diurna è possibile inserire tramite un innesto a baionetta questo strumento che consente una rilevazione termica fino a una distanza di circa 2000 metri. Il sensore ha una risoluzione di 1024x768 pixel, i pulsanti di azionamento sono molto semplici e intuitivi ma soprattutto c'è la possibilità di interfacciarsi con il proprio smartphone tramite l'apposita app per tutto quello che riguarda anche la taratura preliminare che in questo modo non necessita praticamente di smanettare sullo strumento e consente di mantenere invariate tutte quelle che sono le sue caratteristiche tra uno smontaggio e l'altro quindi per esempio utilizzando l'ottica pura durante il giorno e riapplicando lo strumento nel momento in cui si caccia durante la notte per quelle che sono le fattispecie attualmente previste che consentono l'utilizzo di questi strumenti. La qualità elettronica e ottica è ovviamente Zeiss quindi stiamo parlando dei vertici assoluti della categoria. Il prezzo al pubblico è di 4500 euro più circa 300 euro costituiti dal complesso tra lo specifico anello da montare sul proprio diametro di obiettivo e l'innesto a baionetta.